Che tu viva in un condominio o in una villetta? Che tu abbia una seconda casa o un'attività produttiva? Per te oggi ci sono le agevolazioni Casa Sicura. Adegua i tuoi mobili rendendoli antisismici e grazie a Casa Sicura potrai detrarre in 5 anni fino all'85% dei costi sostenuti, anche se non vivi in zone ad alto rischio sismico. Casa Sicura. Costruisci il futuro su solide basi. Per saperne di più su Casa Sicura vai sul sito meet.gov.it Grazie a tutti.